No, senti, ci ho pensato, meglio di no. Non usciamo insieme, qui c'è un vicino che non si fa mai gli affari suoi. Ah, allora io ti aspetto alla fermata del pullman? No, io prendo il pullman, tu vai per conto tuo, non voglio che ci vedano arrivare insieme a scuola. Perché? Che te ne importa? Eh, tu non li conosci, quelli sono delle bestie, poi magari, non lo so, pensano che stiamo insieme. Ma non c'è niente di male? Eh, no, c'è di male, poi io non sopporto gli sguardi degli altri, poi qualcuno comincia a invitarci insieme a Cina, poi spuntano altri due che dicono perché domenica non si va insieme al mare in quattro e poi altri quattro, no, non mi va. Va bene, io esco fra cinque minuti. Sì, ah Bianca, poi al ritorno la stessa cosa, vado avanti io perché tu non hai la chiave. Allora vuoi che torni qui? Ah, già. Allora vuoi che torni.